Salve a tutti amici ed amiche, sono il dottor Vincenzo D'Amico e nella nostra rubrica ci occuperemo di un moderno approccio ad odontoiatria. Analizzeremo nelle prossime puntate i vari aspetti e le varie branche della nostra professione e daremo un occhio di riguardo agli ultimi derivati tecnologici. Questa è la prima di una serie di puntate che compongono una rubrica strettamente correlata all'odontoiatria e a tutte le sue innumerevoli sfaccettature. Analizzeremo infatti nel corso della programmazione i vari aspetti della nostra professione tenendo in considerazione la figura del medico e la figura del paziente. Come ogni introduzione che si rispetti tutti, tutto parte dalla prima visita. La prima visita è l'elemento più importante, il nostro biglietto da visita con il paziente. Sappiamo tutti che le prime impressioni che vengono date in qualsiasi forma di rapporto umano sono quelle che stabiliscono la correlazione tra le due persone dell'interazione. Sappiamo tutti che seguendo i vari studi che vertono sulla socializzazione, l'impatto e i primi cinque minuti di conversazione con un interlocutore daranno poi il giudizio finale che abbiamo su quella persona. Nella nostra professione le cose non cambiano. L'impatto che il paziente ha con lo studio e con il titolare dello studio è quello che poi farà scegliere o meno al paziente se continuare le cure e i trattamenti presso la nostra struttura. È quindi fondamentale prima ancora di far sedere il paziente alla poltrona che la persona che richiede il nostro servizio possa trovarsi a suo agio in un ambiente confortevole, pulito, circondato da persone sorridenti e cordiali. Tutto ciò è soltanto un preambolo di quello che poi avverrà una volta seduto alla poltrona. Quando il paziente si accomoda alla poltrona deve essere accolto con un sorriso, deve essere accolto con cordialità anche dal personale di assistenza e deve essere perfettamente consapevole di ciò che stiamo dicendo. Non è utile né professionale circondarci di termini ipertecnici. La cosa più importante è appunto la consapevolezza che il paziente ha della propria situazione. Per ovviare a questo la moderna tecnologia ci ha dotato di uno strumento fondamentale per la diagnosi, la telecamera intraorale. La telecamera intraorale è una mini telecamera che ha la capacità di entrare in bocca al paziente e di trasmettere in diretta le immagini su un monitor. In questo modo la visita viene svolta a quattro occhi perché il paziente riesce a vedere ciò che ha veramente in bocca. Si possono notare così le carie, si possono notare le recessioni gengivali, si possono notare i cambiamenti di colore delle mucose fondamentali nella diagnosi di patologie paraneoplastiche o semplicemente infiammatorie. Si possono notare le posizioni dei denti e quindi la necessità o meno di un trattamento ortodontico. Dopo la visione diretta con la telecamera è fondamentale un full fotografico quindi ogni paziente deve avere le sue fotografie correlate alla propria cartella clinica pre e post operatorie. Ciò servirà per far capire alla nostra persona interessata qual era la sua situazione iniziale e dove siamo riusciti ad arrivare nella situazione finale. Fondamentale per la diagnosi e per un corretto trattamento ma soprattutto per un corretto preventivo, cosa da non sottovalutare, è l'esame radiologico. L'esame radiologico si compone di un full radiografico quindi delle lastrine di precisione che devono interessare tutti i denti e di una OPT, un'ortopanoramica. gli studi dovrebbero essere all'avanguardia e di conseguenza avere un ortopanoramico al proprio interno. Quando ciò non è possibile è importante rivolgersi a dei centri radiologici ma non è pensabile nella moderna odontoiatria la diagnosi senza panoramica. Terminata la visita macroscopica, quella diciamo più spettacolare, si passa a livello operativo alla visita vera e propria. non si deve mai iniziare dai denti poiché i denti sono l'ultima cosa da prendere in considerazione all'interno del caporale. La palpazione esterna della testa e del collo è fondamentale. Non dimentichiamo che in eventuali patologie neoplastiche ma anche semplicemente infiammatorie la palpazione dei linfonodi è un elemento di diagnosi fondamentale. In una patologia neoplastica la palpazione dei linfonodi sarà generalmente non dolente con un linfonodo rigonfio e spesso fisso quindi senza mobilità. Quando ci troviamo davanti ad un linfonodo rigonfio soprattutto nella zona sottomandibolare la diagnosi differenziale tra una patologia infiammatoria ed una patologia potenzialmente più aggressiva sta nella motilità del linfonodo, nel dolore alla palpazione e nelle dimensioni appunto dell'ingrossamento. Fatto questo si va ad analizzare a livello articolare la presenza o meno di eventuali clic ponendo molto semplicemente le mani sui conditi del paziente quindi giusto vicino all'orecchio e facendo aprire e chiudere la mandibola. Questo è molto importante perché i clic articolari possono essere dei segni di una malocclusione e quindi la conseguenza diretta di patologie legate alla mal di testa quindi problemi a livello cervicale e patologie discendenti che quindi scendono lungo la colonna vertebrale e possono creare degli squilibri. Fatto questo si entra all'interno del cavo orale dove si analizzano i tessuti, il loro colore quindi le gengive e le mucose, la presenza di eventuali lesioni doloranti o meno, la presenza di eventuali elementi taglienti, di protesi, di decubiti da protesi, dopodiché si va a lavorare sul dente quindi come detto prima il dente è l'ultimo elemento su cui noi andiamo a fare diagnosi perché è potenzialmente il meno pericoloso. Sul dente si analizzeranno le recessioni, si analizzeranno la presenza o meno di carie, soprattutto la presenza o meno di tartaro. Fatto questo la nostra visita è pressoché completa. È importante come detto prima dare al paziente una precisa idea della sua situazione, del suo stato di salute perché solo con la perfetta collaborazione con il paziente noi riusciremo a portare a successo un piano di trattamento. Come parere estrettamente personale è buona regola rivedere il paziente dopo la pulizia poiché spesso e volentieri gli accumuli di tartaro ci nascondono eventuali carie o eventuali recessioni che in prima visita non abbiamo visto. Quindi la vera prima visita va organizzata in due step. Tutto ciò per avere come già detto un quadro completo ed evitare spiacevoli inconvenienti al paziente anche dal punto di vista economico. Con queste brevi e spero utili notizie vi do appuntamento alla prossima puntata e vi mando un caro saluto.